Il segretario della Lega, seguito da una folla di supporter, ha raggiunto l'area verde Coletta. Qui i cittadini lo hanno avvicinato per esprimere la loro soddisfazione. Prima la visita al Parco Totti di Ferrara, uno degli ex luoghi di degrado restituiti alla comunità, poi il segretario della Lega Matteo Salvini, seguito da una folla di supporter, ha raggiunto l'area verde Coletta. Qui i cittadini lo hanno avvicinato per esprimere la loro soddisfazione, perché erano due anni che nel parco non si vedevano dei bambini. Adesso invece le famiglie hanno riconquistato la zona di fronte al grattacielo. Merito dell'amministrazione del sindaco Alan Fabri, ha sottolineato il capitano. Durante la passeggiata Salvini si è fermato davanti al gazebo per la raccolta firme sulla riforma della giustizia, e qui il leader del carroccio ha parlato delle elezioni a Bologna, spiegando che fosse stato per lui da tre mesi ci sarebbe già un candidato. Fabio Battistini, secondo Salvini, sarebbe un ottimo nome, ma in ogni caso l'identi chi per lui è un civico supportato dai partiti di centrodestra. L'importante è che la coalizione si presenti unita, visto che il candidato del PD non è così forte e c'è voglia di cambiamento, ha concluso il leader del carroccio.